Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi all'How to Play. Vi farò vedere un riff in slap. Questo riff è tratto dal mio metodo Easy Slap, quindi vi invito ad andare sul mio sito carlochirio.com a dare un'occhiata agli altri audio, alcuni video e le varie cose che propongo. Bisogna dire che Easy Slap è il titolo dell'ebook, però chiaramente non è proprio alle prime anni questo esercizio. Infatti per questo esercizio, se non sbaglio, ce ne sono altri, almeno quattro preparatori in cui ci si arriva a suonare questo dopo aver acquisito una certa tecnica. Allora, vediamo le note. Partiamo con un Sol. L'idea ritmica è quella della nota bassa, strappato in nota bassa. Ok? Faccio la stessa cosa sul Sol e sul Si bemolle. Tasto 3 corda di Mi e tasto 5 corda di Re. Vado sul Si bemolle, quindi tasto 6 corda di Mi, con la sua ottava, chiaramente tasto 8 corda di Re. Qua le note sono Do e poi andiamo sul Re. Però c'è una variazione, infatti vado a fare un doppio strappato. Invece di fare una cosa del genere, come prima, vado a strappare il Re, Do, Do, poi strappo il Re di nuovo, cioè di nuovo strappo. Plac. Ok? Riproviamolo. Benissimo, ho fatto i miei quattro accordi. Ora, cambiamo. Cioè, seconda battuta. Mantengo il Sol e il Si bemolle uguali. Ma, anziché andare sul Do, vado su Mi bemolle. Tasto 6 corda di La. E mantengo la stessa idea ritmica del finale della prima battuta, soltanto che io vado dal Mi bemolle al Re. Quindi Mi bemolle basso, Mi bemolle alto, strappato di nuovo, Re. Ne faccio due strappati sul Re. E poi riparto. Ok, grazie a tutti per aver visto questo video. Mi raccomando, condividetelo se vi è piaciuto. Mettete un mi piace, lasciatemi un commento, un suggerimento, anche una critica. Qualunque cosa a me serve per crescere e migliorarmi. Grazie a tutti. Ciao, buona musica Carlo.